No, non stai facendo il video. Sì, sto facendo il video. Questa qua è la partenza della nostra avventura. La Giada si nasconde e dopo si chiama quando farà la scalinata. Siamo arrivati a Parco delle busante. Saluta? No. Sì, è un pollo. Sì, è un pollo. Sì, è tutto bene lì dietro. Sì, è un pollo. 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 Sì, è un pollo.